Troppo ghiotta l'occasione di avere Massimo Cerro qui in studio, quindi io ne approfitto. Ti rubo una battuta anche su Giovanni Calvano, figlio del maestro Danilo Calvano. A Firenze ha fatto molto bene in un torneo Open BNL di recente, ha battuto anche un 2-1 finalmente. Per Giovanni, che ora si allena con Potito Staraci, ha cambiato metodi, un ragazzo di una professionalità incredibile e sta raccogliendo. Incredibile, incredibile. Pure lui l'ho portato insieme a Iamunno. Sono stati con me ai tornei di Colonia, di Asselt, mi ricordo nel 2011. Un ragazzo di una professionalità incredibile e di un'umiltà incredibile. Quindi complimenti a Giovanni, complimenti anche al papà, il maestro Danilo Calvano.